Udienza rinviata al 29 novembre alle ore 9.30, quando il GUP Gianluca Sarandrea sarà chiamato a formalizzare la riunificazione del filone principale con quello del presunto depistaggio delle indagini sulla tragedia dell'hotel Rigopiano. La decisione del GIP Antonella Di Carlo è arrivata al termine di un'udienza flash durata appena 10 minuti, che ha lasciato di stucco i pochi familiari delle vittime presenti in tribunale. In più, la prossima data utile potrebbe saltare a causa di un nuovo sciopero degli avvocati. Siamo scoraggiate, scoraggiatissime anzi per dire questa cosa, perché quando sarà poi? Io non me lo ricorderò, data la mia età, mio marito neppure, non lo so come andremo a finire, non lo so, un futuro incerto di questa cosa, incerto. L'avvocato Romolo Reboa ha commentato con sarcasmo la decisione di oggi. Forse, magari se il 29 novembre se c'è un rinvio per caso per astensione che sempre che la Camera Penale voglia annunciare, si potrà rinviare al 4 dicembre. Perché il 4 dicembre? Perché non è il 30 novembre? Perché forse è sabato il 30 novembre, beh, potrebbe anche essere il giorno d'udienza. L'avvocato Romano è tornato anche sulla mancata costituzione di parte civile dello Stato nel processo contro i vertici della prefettura di Pescara per il reato di depistaggio, mostrando alle telecamere una lettera inviata nei giorni scorsi al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Per lo che mi aveva stupito fortemente, l'avevo detto anche nelle dichiarazioni dell'altra volta, era l'assenza in questo processo della costituzione di parte civile da parte dello Stato nei confronti di funzionali dello Stato accusati di depistaggio. Ho pensato che fosse un problema burocratico. Oggi ho visto che non c'era, non si è costituito. Ne prendo atto. Come avvocato non posso riprendere atto della notizia negativa. Certo, mi avrebbe fatto piacere avere la costituzione di parte civile in questo processo di depistaggio da parte dello Stato. L'avrei sentita un fatto obbligatorio, soprattutto nei confronti di queste povere famiglie, che mi viene da pensare che a questo punto sicuramente vi sia una grossa assenza da parte dello Stato, visto che la legge di Enrico Piano poi non ha avuto neanche attuazione. Fino a oggi è passato un altro mese da allora. Se questo processo non avesse avuto questo comitato, queste famiglie così legate, così altro, sarebbe stato uno dei tanti processi, probabilmente ritenuto per una disgrazia territoriale, per un evento imperscrutabile, cosa che non è questo processo, ma molti pensano che potrebbe essere.